Nell'era digitale in cui viviamo le minacce informatiche si stanno evolvendo molto rapidamente, diventando sempre più sofisticate ed andando a colpire una base dei clienti sempre più ampia ed indiscriminata. Inoltre l'utilizzo dei ransomware sta facendo sì che i costi di protezione aumentino costantemente. In questo scenario i trend di mercato, ma soprattutto la trasformazione digitale che stiamo vedendo, stanno ulteriormente aumentando la dimensione del perimetro da proteggerlo, rendendolo anche molto più complesso di prima. Per questa ragione, per l'insieme di queste ragioni, oggi le commissioni di risk management, anche in Italia, posizionano il rischio informatico al primo posto nella loro classifica. In Palo Alto Networks ci impegniamo quotidianamente per offrire ai nostri clienti il massimo livello di sicurezza in questo tipo di contesto, proteggendoli reti, endpoint, cloud, in modo assolutamente integrato ed agile. Inoltre riteniamo che non ci si possa fermare se che si debba continuare ad investire in ricerca e sviluppo e da quando siamo nati, più di dieci anni fa ormai, perseguiamo costantemente due obiettivi principali, quello dell'innovation e della disruption. Venite a scoprire come è possibile proteggere e abilitare il business delle vostre aziende in modo sicuro ed agile, focalizzando le vostre risorse prevalentemente sullo sviluppo e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali e meno sulla risposta e la protezione rispetto agli attacchi informatici che ci sono. L'occasione sarà il 5 di giugno 2018 a Milano all'interno dello stadio di San Siro dove terremo il Cyber Security Summit e dove insieme ai nostri partner principali avremo il piacere di incontrarvi e di raccontarvi quello che pensiamo possa essere un messaggio molto importante e interessante per voi e dove speriamo di potervi dare alcuni spunti per trasformare anche i vostri progetti di Cyber Security in progetti efficienti, innovativi e disarapti. Vi aspettiamo, a presto!